buongiorno buongiorno a tutti in occasione del suo compleanno in mercoledì di aprile sono dedicati a Ezio Greggio pensi mi ha soprannominato the marshal of the vips una striscia verticale con i suoi film maestà come è andato parli per lei perché se io decido di scendere in campo qui cambia la musica è lui Ezio Greggio ogni mercoledì alle 21 su cine 34